Più clemenza e più tenerezza di come lo facessi prima e ogni tanto mi vedo, ma guarda quella grulla così, carina ho molta tenerezza verso me stessa prima no, ero impietosa tutt'ora sul lavoro, in studio mi chiamano Drusilla Führer però ora io mi ascolto con più tenerezza E con la tua vita? E la mia vita La mia vita adesso è ingombrata da questa cosa del successo, dell'impegno certamente è una cosa che mi arricchisce qualche volta mi mancano le cene con gli amici poter bere un po' di più così il giorno dopo si dorme un po' di più sono molto protettiva verso quello che ho adesso nella mia vita e quindi vorrei averlo un po' di più una vita più normale però sono fortunata siamo fortunati ma cosa intendi per vita normale perché cerchiamo di capire poi allora vita normale noi che facciamo questo lavoro ecco cos'è la normalità cos'è la normalità? cos'è la normalità? cos'è la normalità? è avere il tempo avere il tempo avere il tempo avere il tempo per gli altri per sé e quindi il tempo per gli altri perché parte tutto da un rapporto coste cioè per le persone che amiamo da... sì però nasce da un'urgenza interiore propria poi avere voglia di avere il tempo di stare con gli altri e questo è quello che dà il valore al tempo cioè che è ricco di desideri ci stai pensando per arrivare a questo? come? ci stai pensando per arrivare a questo? per riuscire ad avere più tempo? no perché poi mi capitano cose belle come fare la trasmissione e allora mi ci butto dentro dai vediamo Drusilla allora l'almanaco del giorno dopo una trasmissione bellissima che parte domani però un po' di tempo anche per noi bisogna trovarlo Drusilla beh parla una proprio ecco per la notte Cencio che parla male di strano io che sto zitta mi incanalavo in un discorso dove ero assolutamente poco credibile poco credibile vediamo buonasera e benvenuti all'almanaco del giorno dopo mancano 201 giorni a Natale c'è tempo di portarsi avanti con i regali non ridorsi a fare le corse destinati alla fine e comprare degli acquisti cretini Ornella buonasera sono la signora lei l'ha mandato coleta dai ammazza la vecchia stroncola mini bonsai vedi che belli che sono belli o ma gatti diventate delle star internazionali non ci piacerebbe vincere di Sanremo dai e cosa pensa? di solito penso al sesso ma che be' ragazzo mi fa piacere che lei sia mio cameraman glielo dico senza malizia e potrei essere sua madre pure mi nota ciao Drilla ciao ciao non esistono più i topi di una volta ma Germano ma lo chiude ma è impazzito ma cos'è? ma cosa sta facendo? direi che siamo alla fine io vado ecco qua ci saranno dei cambiamenti a partire da domani 19.50 su Rai 2 allora si c'è un cambiamento perché la trasmissione è un pochino più breve un pochino più contratta nella parte iniziale di questo spazio un po' drusillesco almanachesco abbiamo almanachizzato anche la Eat Parade c'è una prima parte che si chiama Eat Parade e te lo dico così perché non è proprio scritto Eat Parade ecco e quindi ci sono delle ci sono pochi minuti con che celebrano una data gli anni 70 prima degli anni 80 così poi vengo io filmati però sono con una voce ogni puntata c'è una voce amici che hanno cioè mi tratta proprio come una vecchia grulla c'è una voce esatto perché non lo dicevi lo voglio dire io perché è una bellissima idea però non ci arrivavi esatto ci sarai tu ci sono io all'ultima puntata ma prima annunciano questa Eat Parade altri amici con la loro voce come appunto mi ricordavi va bene e poi c'è l'almanacco con le rubriche il giorno dopo il sole nasce la luna scende il personaggio dell'anno dopo guarda se partiamo così è la fine perché prende a ridere ma intanto abbiamo quasi finito vedo continuano a farmi cenni ecco vedi guarda Marco sta già in febbrillazione l'ho già detto l'almanacco del giorno dopo da domani lunedì 12 dicembre quante volte ho detto mi continuo a far vedere la prima edizione è durata 20 puntate l'ho detto dal 6 giugno prima luglio ma è un dettaglio questa edizione a partire di domani su Rai 2 alle 19 oi oi Mara è fatica tu mi capisci a me e poi trova il tempo te perché non a me mi dice a me ti seguiremo tutti no però ci dobbiamo fare una promessa dobbiamo trovare abbiamo parlato di tempo il tempo per vederci una sera davanti a un bicchiere di vino lo dobbiamo assolutamente trovare bene tu o prima o dopo Natale come vuoi tu ma io ti aspetto perché io ti amo sappilo sappilo che ti amo buon lavoro buon lavoro